la connessi la live va bene adesso ho fatto un'oretta piante verso zombie ho scoperto i perk offline per migliorare e adesso facciamo qualche partita come al solito a lega per essere sicuri di passare allora mettiamo la tabla keyboard il ghiaccio e usiamo questo mentre per il cecchino mettiamo il cessettino che ci sta sempre bene ok giochiamo ancora con questa siamo sesti e mancano otto ok in teoria adesso un'oretta dovrei assicurarmi la promozione al prossimo livello della lega sempre che qualcuno ci giochi ovviamente se qualcuno vuole unirsi è il benvenuto per una simpatica partitella anche insomma siamo ad agosto a quest'ora dovreste essere fuori a divertirvi a quest'ora dovrei assicurarmi la promozione al prossimo ecco infatti sembrava troppo bello impossibile connettersi alla lobby il primo colpo è credevate volevi connetterti e invece no finito vediamo cosa c'è nel mercato nero cos'è questa caccata sasso carta forbice ah ecco queste forbici però se no uh la kill degli arcobaleni quello da e questo faraone ma l'avevo già sbloccato in un altro con le casse per cui niente sono tutto tu sei qui per rifornirti saggia decisione allora questo le ho tenuto tutto con le casse ho tenuto il mitra il pompa va si tengono anche dei livelli oggetti con le casse per cui non vedo perché spendere bene pronti per l'oretta solita a cod devo dire che plantes versus zombie non è male però devo con calma impratichirmi mentre invece per il battle royale hunters arena è lì è un po più complesso per quanto è interessante non amo i battle royale ma devo ammettere che questa versione in tipo dynasty warrior si incontra il battle royale col pvp e pv e contemporaneamente non è male ma hanno preso batteri e allora io prendo sera così imparano le forze nemiche non devono rubarci le zone non ho visto se c'è pollito di vino pollito di vino la mia nemesi spagnola i black ops prendono b io giro da fuori ma no ma no ma no 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 madonna che inizio veramente squallido più squallido di un dpcm bravo perso difendiamo a con calma l'inizio non è stato il migliore contendiamo alfa difendiamo alfa siamo a corto di vite attenzione contendiamo alfa no non l'ho ucciso il trash dei poveri madonna mia che schifo di inizio allarme è il storm nemico in arrivo che cazzo attacco lampo nemico rilevato ma come ma come attacco lampo nemico in arrivo ah era il vuoto ah era quella di uscola contendiamo alfa staserata uh è entrato trench difendiamo alfa ai nemici restano poche vite con la sua fidanzatina nero ma nooo bastardo che dentro sotto 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 vite finite o la va o la spacca eh la spacca proprio non c'ho neanche la bomba perchè mi hanno preso batteri il mio piccolo battere mamma mia bravo guarda Mauto facciamo avanti noi che puoi la mia squadra si siete uno spettacolo squadra chi è ormai questa occupate tutte le zone nemiche ok io vado su B come d'antica tradizione ah tutti vabbè io faccio il giro largo da fuori catturiamo B vedo se scende qualcuno da qua vabbè fammi prendere qualche punto abbiamo preso bravo è strano che non c'è nessuno alla finestra di solito ok no conquistiamo il nemico contende alfa no fine ci fu giù strano che non no ma dove mamma mia che inizio non c'è nessuno facciamoci un bagnetto perché sono venuti qua a scassare la gualla? c'è qui dove rispawniamo si ma la mia squadra si l'ha fatta? il nemico contende alfa vengono a fare lo spav no kill catturiamo A ecco cosa fanno fanno lo spav no kill il tempo sta per scadere perché non ti metti alla fine estrella a fine cioè prendiamo un po' di frutta cosa ti metti ma chi cosa dove ah stanno per uscire le mete ti salvo io i black ops contendono A la missione non è finita riprovate dottore ah è quello che ha fatto fuori me così ecco da dove era accaduto era accaduto dal balcone ma dopo l'ho fatto fuori io le forze nemiche non devono rubarci le zone ma da dove è passato contendiamo B respingiamo i black ops in tutte le zone ma dai dai ma dai ma dai perdiamo B perdiamo B ma scusa non l'ho colpito veramente contendiamo bravo hanno preso B contendiamo A ma dai stasera difendiamo A hellstorm nemico rilevato difendiamo alpha i black ops stanno prendendo A rilevato sistema di intrusione nemico non l'avevo ucciso non l'avevo ucciso l'appia siamo a corto di vite attenzione hellstorm nemico rilevato stanno finendo le vite eliminateli colpo fulminante colpo fulminante ostile in arrivo colpo fulminante ostile in arrivo colpo fulminante ostile in arrivo difendiamo alfa colpo fulminante ostile in arrivo e vaia e vaia ok contendiamo alfa e l'alba perdiamo alfa difendiamo a hanno finito le vite abbatteteli tutti contendiamo alfa abbiamo finito le vite ultima possibilità difendiamo alfa ci resti solo tu sai cosa fare i black ops stanno prendendo A tutte le zone perse controllo ai black ops non potete deludermi così catturate tutte le zone va bene prendiamo B eh vabbè parecchio difficile catturiamo B bravo eh mi aspettava voleva prendiamo bravo i nemici contendono bravo passate di qua prendiamo B bravo è nostro mi aspetto se no lì che mi aspettavo forse è meglio che torni al termico prendiamo A no i nemici contendono alfa oh firebreaker di me e tu che cazzo muoio dalla mia vita prendiamo alfa e fate fine fine bravo finisce finisce nooo finisce ma va va col termico con i bambini come me perché non ho scoperto quest'arma senza il termico però mi manca il termico no a me però figo i nemici contendono A ma no ma in due in due perché da solo non ce la fanno finisce i black ops contendono A stiamo per finire le vite che contatori di palle che sono i nemici contendono A i nemici contendono A e vabbè mi sono ripreso alla fine pazienza i nemici contendono A hanno finito le vite chiudete la battaglia i nemici contendono A oh e doveva assicurarti fossi morto eh dopo che mai prendiamo ultima vita ultima possibilità va 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 dalla finestrina va va con te il tempo sta per scadere ah siamo anche uno in meno ah però il nemico contende Alfa un bonus che ammazza l'ultimo di loro però la migliore dai devono dare a me la la kill migliore stiamo catturando Alfa ho spaccato Collin dai la kill migliore è dello zio ste dai fateli crollare ho fatto due kill con il fucile e due con le mani eh beh Dolimberti fine fine dai uno bastardo del firebreaker poi mi sono trovato questo davanti ho spezzato il collo e anche a lei tac ho spezzato il collo cambio squadre viva me difendete tutte le zone difendiamo B ma vai a fare no non c'ho voglia di cambiare arma contendiamo A tutte le zone contese restare in potenzione bravo perdiamo A difendiamo Alfa pericolo attraversamento più bastardo di firebreaker bravo in mano nemica ecco fine e tu va che c'è un battere che giro farà batteri da lì un hacker nemico cerca di violare i nostri sistemi un nemico ha violato e disattivato i sistemi di controllo contendiamo Alfa difendiamo A i Black Ops stanno prendendo A difendiamo Alfa malware nemico rimosso dai sistemi contendiamo A scambiavare o no ho ucciso qualcuno vabbè dai finit siamo a corto di vite attenzione ah scusa sei con me ai nemici restano poche vite fateli fuori non si sono palesati forza è ora di fare sul serio ma nooo ma nooo ma nooo adesso mi trasformò in piantina e li attacco con i semi fighe siamo al comando sto giocando partite senza il mio mitico termico non mi sembra vero grande grey cool non mi sembra contratto completato contratto completato due valigette sono a livello 143 andando per il 144 cosa ci sarà dentro le valigette ricordami di ordinarli il coltello eh? adesivo rombo di tuono niente di interessante vediamo i nuovi contratti cosa che mi da la valigia niente niente da ogni punti va bene ma no ma perché me li perde porco cane oh c'avevo anche la pistoletta oh c'ho la medica va bene dai trovami qualche partitina dai non si trova mai niente dai lega su dai che devo migliorare se no non va bene controllo controllo ok difeso va bene non c'è poi hito divino no no la mia nemesi non c'è no 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 ok uba uba allora prendo firebreaker così imparano controllo batteri io ho fatto la classe apposta senza la granata per la granata atomica di batteri che i difendiamo b da dove c'è un tazio nuvolare Ma no! Come ti permetti? Io andrei a dare un'occhiata tanto così per dire Ehi mamma mia Perdiamo A Attaccano un po' uno, beh è bella la strategia effettivamente Difendiamo A Respingiamo i Black Ops in tutte le zone F***a 5 a 0 6 a 0 Contendiamo bravo No! Stavo per uccidere una... Difendiamo A Ho finito i colpi Eh vabbè vi uccido con la pistola No, magari anche no eh Andami Ma nooo! 7 a 1 Eh dai! Non male! Sto prendendo Alpha Un 7 kill prima che mi ferma Difendiamo bravo Cosa salti! Cosa madonna! Ma siamo noi Ma siamo noi Così... Non ci restano zone Non ci restano zone Con la pistola Occupate tutte le zone nemiche Qualcuno che se ne va sempre Ma perché? Andiamo su A Andiamo su A Andiamo su A Stava Dio Prendiamo Alpha I nemici contendono A Ma nooo! Stavo guardando Il condotto Ma questa che cazzo salta? Cosa pensa? Vi giocherà l'NBA I black ops contendono A Che gente strana che c'è online Catturiamo più zone Non piace il ghiaccio come mosso Il nemico contende bravo Il nemico contende tutte le zone I nemici contendono A Nooo! Mi sono fatto ammazzare Come un... Minchietta Sono morto da conte Proprio da minchia E tu? Aoooo! Ancora te che salti E basta però Cazzo Bravo Prendiamo bravo Salto anch'io Yeah! Sono capace anch'io I nemici contendono Bravo Siamo capace Bravo Ma... Schiavo tutta Squadra di rane Tutti che saltano Cioè... Veramente È necessario Ok Jump 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 Fine Fine I black ops contendono B I black ops contendono tutte le zone Vediamo più zone Bravo al sicuro Stanno per finire le vite E basta Madonna mia Quanta gente Quanta violenza I black ops contendono A Guardalo Guardalo, 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 guardalo C'è uno alla finestra Guardalo Madonna nooo nooo che essere inutili peggio di conto abbiamo quasi finito la vite nooo minchiato proprio ma è grandissimo 7-8 nooo o madonna chi ha ganciato il nemico contende alfa la squadra nemica è rimasta senza vite nella piena la morte più onorevole l'uccisione più onorevole dai dai entra dalla porticina No, sta arrivando da qua Eh oh, l'ho sentito stavolta Alfa al sicuro Tutte le zone infiltrate Abbiamo la fama di Vincenti Le forze nemiche non devono rubarci le zone No, non lo faranno Dov'è che andiamo? Mi metto in mezzo e passo da E.B Praticamente Adesso c'è qualcuno Io controllo B Perdiamo A Difendiamo Alfa No, il Firebreaker Perdiamo Bravo Sistemi infettati da un hacker nemico Eh Abbiamo perso B Come? Già Sistemi di controllo Ma guarda, guarda, guardalo lì Nascosto come Casalino Quando faceva gli scherzi a ponte Prima di ingropparselo Cioè Se io Se io adesso entro con lanciafiamme spianato Qualcuno mi offende Sì perché è nostro Ok Ciao Ma no Avevo sparato il lanciafiammone Ah, non era arrivato fin lì il lanciafiammone Difendiamo A Di solito quando incendi un peto È fin lungo il tiro Dovete dare il massimo Ok Oh, a massimo No, scusate Non volevo Difendiamo Alfa Ok, la vedo qualcosa che si muove No, sono io I Black Ops stanno prendendo A Ma no Firebreaker defiater Che partita combattuta e sentita Stiamo per finire il tiro Oh, hanno preso Hanno catturato tutte le zone Non potete deludermi così Ma che cos'è questa pistolina Catturate tutte le zone Settimana prossima quando inizierà la nuova stagione di Raw Company Prendiamo Raw Company Perché c'è la nuova stagione Con i nuovi premi E' una nuova mappa in Giappone Perché ce l'hanno tutti con me? F***a Cosa gli ho fatto? Abbiamo preso B Nooo Questo qui sempre con Questa pistolettina Guarda da Vladimir Luxuria E' una nuova propria Eh, vabbè Però Se ci mettete davanti Non posso sparare Facciamo un'altra strategia Perché si ritornano tutti Dallo stesso punto E' lì per fuori tutti Tu cosa fai? Se ci sono io Maddonna Stiamo catturando Alfa Va, va, va Quello con la pistolettina Lì Il Black Ops contendono A Va, va, va L'altro amichetto Lì, fine C'è proprio I nemici contendono A Fine Fine Eh, se poi non mi si incastra Nello scenario, eh Magari Riesco anche a muovermi Porco, bau Ah no Connessione interrotta Che cacchio c'ha Ma non si è rincastrato Nello scenario Stava laggando Abbiamo quasi finito le vite Stanno finendo le vite Eliminateli Manca poco Sotto Sotto Non mi danni così Come cazzo fai Ma perché Madonna Senza mani Senza orecchie Senza piedi E senza naso Il nemico contende Alfa Catturiamo A No I nemici contendono Alfa Prendiamo A Anche lui I nemici contendono A Dio Vabbè Eravamo anche uno in meno Così non va Si può fare Ho fatto Quello in meglio Che si poteva Uh, il Don Limby Ho fatto fuori Zero Questo Firebrake Viva me Questa live me la ricarico su Youtube Me la voglio tenere Ho fatto delle cose piuttosto interessanti Sempre sesto Però siamo Ho una nuova mimetica 35 Killa 17 Morti Va bene Dai Sei qui per rifornir Vuoi aprire la valigetta o no? Te lo dicevo che ho solo roba buona Mamma che schifo Cambiamo effetto Mettiamo Gli arcobaleni Oh Questa è la nuova mimetica Bella Finito Dai Una mimetica chicco Dai Ziostè Un'altra partitona E poi mi esercito offline a Plantez versus zombie E al battle royale Così se riesco a potenziare un po' per fare una partita un po' più bella a Piante versus zombie Poi il pomeriggio in teoria vorrei portare qualche storia sull'Xbox ma ultimamente sto avendo un po' di problemi che devo risolvere non ho più il pomeriggio libero Appena finisce poi l'estate che è più fresco metterò giù una programmazione seria della settimana dal lunedì al venerdì con anche retro gaming di PlayStation 2, Nintendo, Wii e ovviamente giochi multiplayer da fare con chi vuole unirsi Ok non c'è poi hito divino Oh postazione in spagnolo alla seconda Ecco questa mappa non mi piace in granché Oh Postazione per cui dobbiamo spostarci Questa mappa non mi dice molto Oh battery Battery a rapporto Postazione Madonna Conquistate gli obiettivi Che cosa sta succedendo Postazione individuata No vabbè che cosa succede La postazione è contesa Ma no ma non so neanche dove sto sparando Ma come si può dai È un lag unico No vabbè ma che cacchio c'è La postazione è contesa Postazione persa Come faccio a mirare Postazione sotto controllo Postazione contesa Oh vabbè c'è qualcosa che non va ma non so se solo a me o tu È impossibile Va a tre frame Che faccio a mirare In queste condizioni Ma non so neanche se sparo o no Il problema è che se esco mi bannano per Postazione individuata La postazione è al sicuro No no sei te scusa Ma no Non volevo tirarla Non so neanche come ho fatto ad ucciderlo Con sto la Tutto scattoso a pre frame Cos'è successo? Riuscire a fare le kill in questa condizione Vuol dire che sono migliorato Postazione identificata I nemici hanno la postazione Vediamo se finendo il round si è risetta perché Probabilmente è un bug dovuto all'elicottero per me Sì però ripeto come posso giocare così dai Ah se ne sono andati Ok allora un problema Del server Perché se se ne sono andati Se ne sono andati Se ne è rimasto in solo due Io riesco a giocare anche con sto lag Ho finito i golvi però signori Dammi te un'arma che cosa avevi Oh il mio Con un altro mirino Oh cacchio è bello anche sto mirino Mi sa che non è il mio fucile Postazione contesa Postazione contesa Attacco lampo pronto all'uso Non abbassate la guardia finito il lavoro Postazione persa Attacco non riuscito Schifo Nessun effetto ricevuto Fine La postazione al sicuro La postazione è contesa Postazione identificata Figgaccio l'haelstorm La postazione è al sicuro La postazione è contesa Attacco haelstorm fallito E tu che fucile sei? Oh con il mio vecchio termico Ok figo Ah questo è il fucile di Tima Quello che spara raffiche Odiosissimo Nooo dai Ero pronto All'agguato Qualcuno che sta venendo di qua Ma nooo Ma nooo L'abbiamo mirato Postazione individuata Vabbè dai Un dcc Mamma mia Figgaccio Figgaccio La postazione Sotto controllo Ero è stato uno dei miei a spararmi mamma mia quant'è che finisce sta tortura no! e cado la postazione è al sicuro ha fatto del male ai miei amici finito va bene lo fate sembrare facile vabbè erano anche in due e la gava bestia dai dai facciamo l'ultima sperando che non laghi così e poi ci rivediamo domani sera sicuramente pomeriggio non lo so a sorpresa potrei fare un'altra multiplayer o portare the Blair Witch Project facciamo l'ultima sperando che sia un po' più giocabile mamma mia che caldo allora non è che gli arcobaleni mi piacciono molto allora cosa facciamo l'EGTOM il frizzino pioggia i soldi natura voglio vedere cosa fa dovrei passare la promozione tranquillamente 7 ore si vai dovrei riuscire a superare anche il prossimo livello bene 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 nel frattempo vediamo allora serie di uccisioni massima 10 di seguito buono ho battuto il mio record di 7 yeah vittori sconfitte siamo lì cos'è senza fietà senza fietà hai ucciso 10 nemici senza morire oh ah già ho fatto la serie più 10 esatto senza fietà hai danneggiato un giocatore che poi si è ucciso vabbè ok hai ucciso un nemico poco dopo aver scambiato le armi ah ok figo con la granata ritorno di fiamma con la tua stessa arma dopo averla raccolta ah ok hai ucciso un nemico con i pugni naso rotto sono con il calcio dell'arma ok 11 col cecchino ma quelli li ho fatte col cecchino vai un'ultima controllo c'è poi l'ito di vino no non c'è poi l'ito di vino non c'è va bene niente poi l'ito batteri ok andiamo con l'ultima partita e poi ci salutiamo in questa affosa giornata di agosto controllo occupate tutte le zone nemiche andiamo dove andiamo su ok poi io ma no ma come ma l'avevo mirato prima io prendiamo alfa i mercenari contendono alfa voglio ma no dai mi ok ok con calma zio stef l'ultima giochiamola bene no il nemico contenderà voglio va bene l'avete voluto voi ragazzi io non volevo bravo è il nostro ma no batteri contro batteri niente l'ultima partita lascia catturiamo radar attacco lampo nemico rilevato siamo a corto di attenzione colpo fulminante ostile in arrivo stiamo catturando alfa i mercenari contendono alfa ciao finisco la partita il nemico rilevato siamo avanti noi ciao ci ci sbea ma oh che bella che sei l'ultima le zone infiltrate il mio micio uno dei miei amici fighissimi è venuto per fare lo spuntino di mezzanotte ciao micio fighissimo luna donna che bella che sei luna difendete tutte le zone ciao ciao è tutta occhi è tutta sembra quei pupazzi che si compravano i celuschi avevano le questioni accontentiamo alfa perdiamo alfa nooo perdiamo l'alfa nooo non è giusto io vado su alfa voglio perdere l'alfa oh dove cazzo sta 50 e 50 eh ecco appunto 50 e 50 ho destra a sinistra e a destra ma nooo guarda guarda stanno prendendo vabbè allora sai che c'è lo andiamo a trovare nel condotto no niente l'ultima partita no ma come difendiamo bravo no 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 ci siamo c'è l'una va bene nooo dall'angolino c'è contendiamo bravo c'è l'una difendiamo B stanno prendendo bravo hanno fatto bene i compiti difendiamo bravo siamo al comando restate in zona non è ancora finita che grande squadra fia fia domani devo già andare a prendere la pappa ai mici donna quanto mangiate non siete dei cinghialetti che li mangia amore piccolo cinghiale del papà pronto siamo prestazione veramente scarsa dallo zio del don serale l'ultima però vabbè dai ci siamo divertiti con le prime ragazzi che amato i nemici contendono alfa ma no ma c'è 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 un colpo in canna ma va prenderla ma va prenderla oh ah appuntamento attacco lampo ostile attivo ah appunta mi stupenda i mercenari contendono B colpo fulminante ostile in arrivo no scusa non correte alfa è nostro catturiamo B ma no stavo preparando il colpo ci impiega tre ore a caricare il bazooka abbiamo poche vite non sprecatele questo cazzo ci vuole i nemici contendono bravo senti togliti un attimo dalle altre quarti che c'ho là i mercenari contendono B stanno finendo le vite sapete cosa fare stiamo catturando bravo abbiamo preso bravo vinto bene direi che anche staserata è andata con 14 a 14 dai un 50-50 uno scambio a barre controllo vittoria per le forze governative va bene se domani il tempo e le condizioni lo permetteranno personali ci saremo ci vedremo nel pomeriggio per una live stiamo ancora a decidere bene con cosa e poi sicuramente alla sera con un'altra doppia live zombie e plantes vs zombie e cod bene intanto grazie a tutti e buonanotte e a domani